Grazie a tutti. Di Assoesco, lo conoscete, ormai l'avete anche visto intervenire proprio in queste giornate. Poi abbiamo Gabriele Scicolone che invece è presidente di Oice, Assoesco, l'abbiamo appena spiegato che cos'è anche nella tavola precedente. Oice invece, penso sia meno conosciuta, ed è l'associazione che riunisce le organizzazioni di ingegneria, gli studi credo di ingegneria per esempio. Poi abbiamo Dario Di Santo, direttore di Fire, Federazione Italiana Usi Razionali dell'Energia. Poi abbiamo Giuseppe Pastorino che è presidente di Aice, perché invece è l'associazione italiana dei consumatori di energia di processo, ovvero gli energivori cosiddetti. Poi abbiamo Marco Golinelli che è presidente di Talcogen, eccolo qua, benvenuto, quindi associazione che riunisce soprattutto le aziende impegnate nel settore della cogenerazione evidentemente. Davide Chiaroni invece, professore di strategie e marketing del Politecnico di Milano, eccolo qua, Ostrega, scusate, effettivamente c'è un problema di sedie. Vabbè, allora io le recupero, non ho problemi a fare manovaranza, anzi facciamola subito e scusatemi. Vabbè, abbiamo le due università le abbiamo sopraelevate questa sera, perché abbiamo Fabrizio Dughiero che adesso ci raggiunge, l'università degli studi di Padova, professore di ingegneria elettrica e prorettore all'innovazione. No, 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 va bene qua. E no, mi sembra... adesso faranno a gara ad alzare il seggiolino. Allora, benvenuti, benvenuti. Ordunque, il mercato dell'efficienza energetica è le sfide di domani. Devo dire che un po' il tema l'abbiamo cominciato, ci siamo avvicinati direi anche nel corso della tavola rotonda, della seduta precedente. Allora, partiamo da Vittorio, da Vittorio Cossarini. Allora, cosa secondo te manca in questo momento? Pensiamo anche a un'operazione come il 110, pensiamo a un'operazione come l'Energy Community, che sono un altro ambito molto interessante. che cosa manca per sfruttare, diciamo, a pieno le potenzialità, dal vostro punto di vista, naturalmente, di gestori professionali dell'energia, per sfruttare a pieno anche questi strumenti che sono stati così messi a disposizione. Manca il microfono. No, c'è, c'è. Allora, manca la gestione, l'attenzione alla gestione. Questa è la cosa che manca di più. Allora, dobbiamo convincerci che l'efficienza energetica non si fa installando impianti. Cioè, installare impianti... È una precondizione, dici. È una precondizione. E dopo? Cioè, il problema è il dopo. Anche se io installo un impianto fotovoltaico e non lo gestisco bene, perdo quelli 1, 2, 3, 4 punti di rendimento. Quelli 1, 2, 3, 4 punti di rendimento sono quelli che consentono alla finanza esterna, quindi... Di ripagare gli interessi. Di ripagare gli interessi. E che cosa vuol dire? Che può intervenire un terzo e all'azienda... Stiamo parlando di... In questo momento sto pensando ai tetti. Sto pensando a fotovoltaico in autoconsumo, non a una centrale elettrica. Quella che per noi è nell'efficienza. E evita di utilizzare la finanza per comprare di fotovoltaico e continua a investire nel core business. Quindi, l'attenzione. In molti punti manca l'attenzione al risultato della gestione. C'è stato... Stamattina abbiamo parlato dei certificati bianchi nell'industria. Perché i certificati bianchi premiano effettivamente la gestione. Come dico sempre, la ESCO lavora in coincidenza di interessi col suo cliente. Perché guadagna in proporzione al risultato che ha. Ma il risultato lo crei lì. Nel 110, ad esempio, noi siamo in qualche modo ridotti a fare il ruolo del general contractor. Perché non possiamo essere parte attiva nella gestione. Già tutto il 110 su cui le nostre imprese lavorano. Noè, attenzione, non sto criminalizzando l'idea del 110 perché dietro ha un background, è già un obiettivo importante. Ecco, però anche lì l'investimento è lasciato lì. Chiaro che il cappotto... Non ha bisogno di essere gestito. Sì, si è fatto bene. Se no hai l'umidità negli angoli. Ah vabbè, certo. Per attenzione. Poi anche il cappotto deve essere installato, deve essere installato berene. Però voglio dire, il cappotto sì è un elemento. Ma io allora voglio partire dal discorso di Laria Bertini che ha fatto stamattina. Che ha parlato dell'edificio, finalmente del sistema edificio in pianto. Prima è l'edificio come sistema, faccio un passo in più. Che cos'è l'edificio? È un servizio, non è solo un asset. Allora, noi siamo abituati ad abitarlo e ad averlo in Italia perché l'80% delle famiglie l'hanno. Questo forse è il punto di partenza, ma sdoppiamoci un attimo. In realtà l'edificio come asset e come servizio mi deve dare benessere, l'edificio mi deve dare funzionalità, una serie di cose. Allora, non è solo con il cappotto. E con il finanziamento corretto di altri sistemi, ci sono le pompe di calore, c'è l'elettrificazione, ci sono i sistemi preditivi di gestione che non sono previsti oggi. Con questo è la cosa che volevo farti questa domanda specifica proprio su questo. Abbiamo tantissime testimonianze, continuamente riceviamo, chiunque lavora in questo campo, testimonianze di situazioni in cui, semplicemente cominciando a misurare con precisione e gestendo di conseguenza, si abbattono i consumi, in alcuni casi del 15%, in alcuni casi del 30%, a livello aziendale, a volte di più. Perché non si sa che ci sono le pompe accese la domenica, no? Sì, quello è la cosa, ma anche l'edificio, qui abbiamo parlato delle classi energetiche, le classi energetiche non sono una misura, sono un'altra cosa. Guarda che io l'ho visto alcuni anni fa, quando si cominciava a operare, ad esempio a cavallo del 2006, quando è nata l'ultima normativa, dopo si è cominciato a costruire in classe A. Ecco, sono stati fatti per fare un upgrade dei progetti, degli edifici in cui si è utilizzato un'impiantistica che ti porta nella classe superiore, ma gli inquilini non spendevano un euro in meno. Allora, quindi questa roba bisogna pensare al dopo. Purtroppo oggi, e qui dico un'altra cosa che ho già detto, ma fate conto che il sistema incentivante, fino a che ha funzionato, senza donare dei certificati bianchi, che ne hanno parlato stamattina, ne hanno parlato Barberis del GSE, la nostra vicepresidente, senza donare su quello, ma un TEP risparmiato con il supporto dei certificati bianchi, costato in incentivi meno di 800 euro. Dico meno perché non sono dati che escono da SAP, sono comunque stimi. Le rifiscalizzazioni fino al 2019, quindi pre-110%, un TEP costato più di 3.000 euro. Perché? Perché quello è un incentivo sui CAP, ex fisso, senza guardare il risultato, e invece il TEP risparmiato è sull'incentivo che è fatto misurando quello che si è prodotto di efficienza. Il tema della gestione, oltre che dell'installazione di macchine... Se devo sceglierne uno, scelgo questo. Facciamo un esempio banale, io posso comprare un'auto più efficiente di quella che ho, ma se poi la guido sempre a 200 all'ora, continuo ad accelerare e frenare, comunque consumerò tanto lo stesso. Non si tratta solo dello strumento, ma anche di come viene utilizzato. L'auto elettrica è adeguata nella misura in cui viene utilizzata nel modo giusto. I vari tipi, tre tipi, tipologie di auto elettrica. È l'utilizzo che ne fa, è la sua gestione che ne fa. Se tu compri la FEV, la cosa ricaricabile, e hai un utilizzo sbagliato, tu vai a benzina, non stai andando in elettrico. Sì, sì, è chiarissimo. Allora, torniamo un attimo, io vado da Scicolone. Andiamo un po' in continuità, no? Per esempio, questo intervento del 110%, del quale parliamo, c'è un obiettivo di decarbonizzazione. E questo, secondo te, l'obiettivo principale con cui i governi, il governo che ha messo a terra questa misura, era questo che aveva in mente, come elemento prioritario? Allora, intanto grazie. Fammi ringraziare intanto Assoesco, qui abbiamo il presidente Phil Fisher, per avermi invitato a questa tavola rotonda. Mi permetti, e vengo subito a risponderti, presentandomi, hai citato Oice, ovviamente, che rappresento come presidente. Sì, Oice, mi hai fatto la domanda, che cos'è Oice? Oice è l'associazione delle società di ingegneria e architettura italiane, quindi rappresentiamo, siamo un'associazione confindustriale, rappresentiamo le società di ingegneria, quindi le società di capitali che sviluppano ingegneria. abbiamo circa 500 associati per un giro d'affari di 3 miliardi e mezzo, quindi dalle grandissime società di ingegneria, pensiamo a Italfair, ai piccoli studi, le società meno visibili, magari sul mercato. Quindi, da questo punto di vista, siamo un attore del tema dell'efficientamento, del tema dell'energia e dell'ambiente. Abbiamo gruppi di lavori in associazione che si occupano di questo. Vengo alla tua domanda, il super bonus, che se ne è parlato tanto in questi giorni e nei panel precedenti, nell'intervento che mi è preceduto. Sì, la domanda, quindi, è il super bonus una misura che è volta... Energetico o più sociale, mettiamola così. Diciamo, allora, sicuramente c'è un... Nel governo, nel varare la misura del super bonus, c'è stata una spinta dovuta alla necessità di riprendere, di far riprendere i consumi, il PIL, è stato detto. E c'è anche una volontà di efficientamento del parco abitativo italiano, che, come sappiamo, è vetusto, eccetera, eccetera. Quanto è l'uno e quanto è l'altro? Forse, per rispondere, diamo qualche dato, no? Quindi, se noi facciamo mente locale a quante risorse il governo sta mettendo sul... sul 110, no? 15 miliardi. Facciamo mente locale a quanto... Sono, credo, più di 30. Più di 30. Siamo arrivati a... Qualcuno parla di 31. Ah, ok, sì, sì, come stima su 31. Benissimo. Quanto è la spesa per unità abitativa per efficientare e portare le due classi? 100.000 euro. Quanti 100.000 euro stanno in 30 miliardi? Facciamo questo conto, 30, 15, poco importa se andiamo poi alla conclusione. Ci stanno 100, 200.000 unità abitative. Quante sono le unità abitative in Italia? Sono 20 milioni. Quindi, stiamo parlando di un qualcosa che va a insistere su un battente dell'1, 2% delle unità abitative. per questo dico 15-30 pari sono, perché andiamo a parlare dell'1 o del 2% delle unità abitative, ammesso che si facciano tutte. Su questo sarebbe utile confrontarsi con Enea, con il Ministero dello Sviluppo Economico. Quante sono? Quindi parliamo del qualche punto percentuale delle unità abitative che vanno a aumentare la loro efficienza... Non voglio aggiungere polemica a polemica, sperando che siano le unità abitative principali. No, perfetto. Ma non è polemica la mia, è calcolo. Voglio fare un discorso di calcolo. Poi ci mettiamo il condimento dopo. Quindi l'1%, ammettiamo, delle unità abitative, vanno a aumentare la loro efficienza energetica del 30% con le due classi. Ammettiamo del 30%. Quanto è il 30% dell'1%? Quindi stiamo dicendo, stiamo parlando di una cosa che va a efficientare dillo zero virgola qualcosa il consumo delle unità abitative. Per questo credo che la risposta sia totalmente una misura che va a alimentare l'economia. E da questo punto di vista la mia non è una critica. Il rapporto costi-benefici, se lo guardiamo sul lato dell'impatto sui consumi energetici, probabilmente non è dei migliori. Io anche, e chiudo così lascio spazio, c'è anche altri, perché come lo guardo, lo guardo. Poi parlo anche da operatore, quindi io ho una società che si occupa anche di super bonus, però poi parlo anche da cittadino, insomma, da presidente di una società. Quindi mi chiedo, poi, quando il mio condominio decide di applicare il super bonus a spese dello Stato, no? Il beneficio economico, perché poi c'è comunque un beneficio economico per i condomini, è tutto per i condomini, perché io mi ritroverò comunque un appartamento con il cappotto, eccetera, eccetera, che consumerà meno l'anno prossimo e negli anni prossimi e quindi avrò, non è vero che è gratis, qui voglio dire, è un beneficio oltre che gratis, perché non l'ho pagato, ma ho un beneficio poi economico che rimane a me e non viene riportato sullo Stato. Uno deve dire, aumenta il valore immobiliare, perché c'è un investimento, ma c'è anche una riduzione delle spese, alla quale il soggetto non partecipa, se non impegnandosi, non poco negli aspetti burocratici, nella ricerca dei finanziamenti. Diciamo che io, che lo sto sperimentando di persona, non credo che, come dire, accetterei volentieri un secondo lavoro di qualunque altro tipo, piuttosto che imbarcarmi in questo, ma comunque questo è un altro paio di maniche. No, mi sembra che il messaggio sia chiaro su questo punto. Poi magari torniamo anche su altri strumenti, se funzionano o se non funzionano, ma qui vado ad Dario Di Santo, a proposito di strumenti, per capire se, insomma, sull'efficienza energetica, la Federazione Italiana Usi Razionali per l'Energia ovviamente è un osservatorio interessante per cercare di capire che cosa c'è e cosa non c'è. Ecco, oggi, rispetto al tema dell'efficienza energetica, la cassetta degli strumenti, al di là del fatto che qualche strumento evidentemente abbiamo già capito non è affilatissimo, ecco, però almeno gli strumenti ci sono, ci sono tutti o mancano alcuni, ci manca la sega o ci manca il martello, ce n'è proprio uno che ci manca, insomma. Non è una di quelle foto che si vede nei siti di settore con tutti gli attrezzi belli ordinati, le cassettiere, purtroppo no. Allora, il punto di partenza è che se vogliamo fare una transizione ci servono persone. E questo è il primo problema che è emerso oggi, anche se magari non è stato citato, perché molti dei problemi che abbiamo visto sono problemi legati alla carenza di persone e di persone con le giuste competenze. Questo vale anche per le imprese o gli enti che vogliano attivarsi per migliorare l'uso dell'energia. Quindi, anzitutto, gli serve l'energy manager. Ora, dire che serve l'energy manager non vuol dire neanche solo che serve nominarlo. Ora, negli ultimi vent'anni abbiamo visto in fire, visto che gestiamo le nomine, che c'è stato un netto miglioramento. Vent'anni fa era pieno di soggetti che nominavano chiunque all'interno dell'organizzazione, tanto per dire nominato, sono apposto con la coscienza. Oggi si nominano persone più competenti. Però, se andiamo a vedere come queste persone sono inquadrate, solo un terzo sono dirigenti. Ora, l'energy manager non è un esperto in gestione dell'energia. Può essere, ovviamente, benvenga se lo è. Ma, fondamentalmente, dovrebbe essere un dirigente che abbia, in quelli che sono i suoi obiettivi di performance, in quelli che sono i suoi bonus, chiaramente, gli obiettivi di efficientamento energetico. Impatto sulle decisioni aziendali. Certo, che presuppone, c'è una strategia aziendale, c'è una persona che ha il compito, la responsabilità di arrivare... Cioè, se non è in grado di imporre all'ufficio acquisti, per capirsi, di comprare motori elettrici efficienti e lo predica, ma poi l'ufficio acquisti può fare un altro percorso e comprarsi il motore al massimo ribasso, probabilmente quella figura è puramente simbolica. Esattamente. O magari non è simbolica, ma è un'arma spuntata perché è tecnica e quindi non partecipa alle decisioni. Ed è emerso il tema l'energia è oggi un tema strategico. Sentirsi dire come capitava e come ancora capita. No, io non ho investito in efficienza energetica nonostante quello che mi dice la diagnosi energetica perché non è core business. È follia. Come fanno ad essere oggi core business? Non ho investito nel digitale perché non è core business. Esatto, è la stessa identica cosa. Non può essere quella una risposta. Io cito sempre, ci sono tantissimi esempi, ma un esempio di impresa che è sempre stato attento a queste cose è Apple. Quando Apple ha presentato i suoi nuovi Mac col processore ARM, salto epocale, non ha detto ho tirato fuori processori che sono prestazionali, punto. Ho tirato fuori processori che raddoppiano la prestazione e riducono un terzo, un quarto, a seconda che prendiamo la scheda grafica o il processore, i consumi di energia era lì. Era lì nell'intervento della D. Non è che era detto il tecnico al seminario per addetti ai lavori. Il messaggio era insieme e vuol dire che quando loro hanno fatto questa scelta strategica perché hanno detto ma lasciamo in terra un po' di storia del passato nel lasciare in terra non era una cosetta da niente. L'hanno fatto perché strategicamente hanno capito da che l'uso dell'energia e l'attenzione alla sostenibilità delle materie è chiave e dobbiamo arrivare lì. Quindi Energy Manager, diagnosi energetica, per fortuna ci sono gli obblighi è un passo avanti ma più di quello sistema di gestione dell'energia perché se è strategico non è un una tanto 50.001 ma oggi non c'è solo quello per le PMI c'è la 50.005 che ti dice non arrivare subito alla 50.001 ci arrivi per gradi comincia a porre le basi per farlo o la 50.009 lo puoi fare a livello di distretto di filiera cioè abbiamo degli strumenti veramente flessibili se non c'è questa strategia interna allora non ci può essere quell'attenzione all'energia che ripeto oggi efficienza energetica uso razionale dell'energia non è solo attenzione alla riduzione degli sprechi oppure uso di tecnologie più efficienti oppure ricorso alle rinnovabili ma dovrebbe essere anche attenzione alla domanda intesa come io posso cambiare il mio modello di business i miei processi le mie filiere per ridurre la domanda migliorando contestualmente la mia competitività e due prodotti e servizi qual è la proposta di valore nella proposta di valore di questi prodotti e servizi cioè in quello che dà il valore aggiunto e consente di venderli ci sta il tema dell'energia ci sta il tema della sostenibilità se la risposta è no e purtroppo oggi spesso no e questo vale sia sul prodotto consumer che su quello business che sul semilavorato vuol dire che non si è capito dove sta il mondo dove va il mondo e questo secondo me è fondamentale perché se capiamo questo è un po' come capire che oggi dobbiamo intervenire non perché dobbiamo migliorare il mondo come si diceva 50 anni fa dobbiamo intervenire perché c'è una crisi climatica e oggi paghiamo alti prezzi non solo perché c'è la guerra in Ucraina o il problema gas ma anche perché ci sta il cambiamento climatico che ci fa pagare tanto alcune materie prime perché c'è la sicilità ovunque ci sono problemi ovunque partiremo anche quest'estate in Europa secondo le prime previsioni meteo per cui è lì che bisogna andare e quindi questi sono secondo noi gli strumenti fondamentali da cui partire poi tutto il resto gli incentivi il supporto è un corollario che facilita che aiuta che accelera ma serve partire dalle persone e dalla strategia del shareholder abbiamo anche un po' di strumenti ma senza un pensiero organizzato dietro sono strumenti che sono un po' così isolati non inseriti sufficientemente appunto in una visione e anche in un percorso probabilmente abbiamo tutti sperimentato e continuiamo a vivere questa assurdità adesso parte il 110 o non il 110 ma le detrazioni fiscali sono anni che vengono riconfermati a dicembre per gennaio con il risultato che un condominio che impiega un anno a prendere una decisione non la prende mai semplicemente perché ogni volta non si sa poi come si va se ci si ritrova nelle condizioni si sa che succederà però non è certo è difficile per esempio una banca non ti finanzia se non è certo un'operazione di ristrutturazione allora Giuseppe Pastorino appunto in rappresentanza dei soggetti che hanno forti consumi di processo soggetti industriali appunto dicevamo gli energivori come state vivendo questo momento male sicuramente perché è difficile immaginare che lo possiate vedere bene ma ecco in un momento come questo partiamo da questa di domanda magari c'è qualcuno magari dei vostri associati che si guarda alle spalle e dice perché non ho fatto quella cosa quando magari un anno fa c'erano anche condizioni migliori più per farla e oggi quali sono gli strumenti di cui avreste bisogno per affrontare e sopravvivere in qualche caso lasci dire così a questa fase sì allora beh chiaramente nei momenti molto difficili per non dire che drammatici ci si guarda sempre un pochettino indietro per vedere cosa si sarebbe dovuto fare meglio ma credo che sia più importante infatti correggerei il titolo dell'incontro non è una sfida per domani ma è una sfida per oggi perché domani è già troppo tardi e io credo allora innanzitutto parto sgombrando il campo da un equivoco di fondo che spesso in questi dibatti si sente rispetto ai soggetti industriali in particolare ai soggetti energivori l'impresa e l'impresa industriale in particolare che cos'è è un'organizzazione che ha l'obiettivo di estrarre il maggior valore possibile in senso lato del termine non solo economico dalle risorse che utilizza quindi l'efficienza in senso lato è la natura stessa dell'impresa e quindi l'efficienza energetica per un soggetto energivoro è il centro del suo business e della sua ragione di vita e delle sue possibilità di successo quindi sull'efficienza energetica abbiamo sempre lavorato tanto sottoscrivo tutto quello che è stato detto da chi è intervenuto per me in particolare perché è più centrato rispetto alle nostre realtà quello che ha appena detto che ha appena Dario Di Santo per dire che anche noi sicuramente possiamo fare qualcosa di meglio e possiamo fare qualcosa di più su cui poi tornerò aggiungo una piccola cosa che manca che non è una piccola cosa è una cosa fondamentale che manca oggi alla cassetta degli attrezzi di cui parlavamo prima oggi ed è particolarmente incomprensibile in questo momento manca un reale indirizzo politico che dimostri la volontà di lavorare seriamente strutturalmente sull'efficienza energetica perdo 30 secondi per dire pensiamo a tutto quello che è stato fatto da quando è scoperta la crisi per aiutare lo sviluppo delle rinnovabili allora non so se sono state prese le decisioni giuste non so se sono le misure corrette che risolveranno il problema ma il messaggio della politica è stato chiaro lo sviluppo delle rinnovabili è prioritario perché è uno degli elementi fondamentali per uscire dal disastro in cui stiamo andando a finire di efficienza energetica la politica non ha parlato ma è così da 20 anni però sì ma adesso ma adesso è ancora più incomprensibile ma adesso è ancora più incomprensibile quindi mentre prima uno poteva dire è una dimenticanza perché in fondo l'efficienza energetica ma perché secondo lei non ho una risposta non ho una risposta però purtroppo questo è il ganglio fondamentale perché se non c'è un messaggio chiaro inequivocabile che l'efficienza energetica è una priorità ed è una c'è una volontà politica forte di portarla avanti non se ne viene fuori perché poi tutte le altre cose vengono però per esempio sulle rinnovabili ci sono state queste forti semplificazioni qualcuno dice forse un po' troppo oppure nel senso che come al solito torniamo lì o stiamo fermi oppure andiamo a 2000 all'ora però una semplificazione normativa per quanto possa essere rischiosa poco costosa ecco dalle casse dello Stato non costa molto non credo che ci sia una soluzione analoga per come dire aiutare cioè non ci sono credo così interventi a costo zero o quasi che si possono fare non c'è questo aspetto per aiutare un'industria energivora a consumare ci vogliono risorse che sui cento e dieci sono state emesse a montagna l'abbiamo visto non ci sono interventi a costo zero ma ci sono interventi a ritorno misurabile e molto veloce e che quindi al sistema comunque portano un vantaggio nel breve termine non nel lunghissimo termine quindi si possono mettere in piedi dei meccanismi che con un investimento perché non è un costo un investimento immediato da dei risultati da tanti punti di vista non ultimo la competitività del nostro sistema industriale del nostro sistema economico nel medio periodo perché anche questo dobbiamo considerare che gli interventi di efficienza energetica portano competitività di cui tra qualche anno avremo bisogno raccoglieremo i frutti esattamente quindi questo sicuramente domanda voi siete d'accordo all'idea di collegare gli chiamiamo gli sconti che normalmente si fanno agli energivori a parte questo momento disgraziato ma in generale ci sono come dire delle delle policy è anche giusto che ci siano per cui l'energivoro paga meno l'energia altrimenti il risultato è che la consumano in Cina quella energia non è che l'energia sparisce lo stesso siete d'accordo collegare questo tipo di facilitazioni a dei processi di verifica alla gestione per esempio l'applicazione della 50.000 a 1 è una cosa di cui si parla da tanto tempo ma perché allora non si riesce a fare sfondi una porta aperta nel senso che è una delle cose che volevo dire quello che possiamo fare noi e su cui siamo assolutamente d'accordo dobbiamo creare molto di più di quello che è oggi nelle nostre aziende la cultura dell'efficienza la cultura dell'efficienza passa prima di tutto come diceva giusto Meditario attraverso un processo di certificazione e di gestione strutturata e attraverso un ruolo diverso dell'energy manager l'energy manager a mio parere deve far parte del comitato strategico di ogni impresa non deve essere uno che appunto perché a me è capitato di conoscere l'energy manager del Liva ed era un ragazzo di 27 anni è capitato di questo e non vi dico cosa mi ha detto a proposito dell'efficienza energetica l'Iva perché mi becco una querela questo si crea anche con un messaggio politico forte quindi sono due gambe che devono procedere la sua associazione oltre a lei sicuramente ma i soci sono d'accordo su questa cosa sulla certificazione assolutamente sì noi le abbiamo sempre proposte quando sono nati i famosi è incredibile che non si sia fatto indicatori energetici di riferimento per gli energivori che erano un'assurdità di cui abbiamo parlato ancora ieri sera con l'ingegner Bertini noi abbiamo subito proposto come soluzione alternativa e logica la certificazione assolutamente è difficile immaginare una strada tra l'altra parte diversa da quella di avere un do adesso su questo su questo aspetto prima poi di passare la parola ai professori a cui chiedo di aiutarmi a commentare tutto quello che è venuto fuori finora vado da Marco Golinelli presidente di Talcogen quindi appunto il mondo della cogenerazione la cogenerazione sulla carta noi lo sappiamo da sempre ci dovremmo cogenerare il più possibile perché quando si produce energia elettrica quando si fa un processo industriale gli scarti di calore sono i quantitativi sono semplicemente immensi in questo momento c'è un focus sufficiente dal suo punto di vista non lo sarà mai probabilmente ma voglio dire c'è un focus sufficiente almeno nel PNRR è una considerata a sufficienza o ci sono per vie surrettizie diciamo più o meno dichiarato ma è un tema che in qualche modo anche in tutti questi investimenti che faremo è presente in una forma o nell'altra allora fammi fare un paio di premesse velocissime la prima è che quando abbiamo ricevuto l'invito per cui ringrazio Fischer a Soesco il comune di Padova a partecipare alla riunione i miei colleghi mi hanno detto attenzione non essere polemico sui certificati bianchi sul super bonus di qualcosa deficiente ci siamo essi d'accordo anche sull'apostrofo di qualcosa deficiente e parliamo di che cosa effettivamente si può fare oggi perché oggi è un punto di partenza e lo sviluppo intanto sono qui come Anima Italcogen Anima è la casa della meccanica 220 mila addetti 52 miliardi di fatturato 57% di esportazione la Germania è il primo paese della meccanica perché ha i nostri componenti tra le altre cose e la cogenerazione ha un ruolo da sempre fondamentale ma alcuni elementi sono sono squisitamente legati al fatto di avere un'attenzione minima eh ma l'efficienza ma è normale la devi fare la fai la cogenerazione la fai la comunicazione della digitalizzazione è molto più strano che non si investa in digitalizzazione che in cogenerazione perché è di tendenza come oggi l'idrogeno come oggi l'idrogeno e come le fonti rinnovabili da parecchio tempo l'efficienza energetica la cogenerazione sono un elemento intrinseco nell'industria oggi noi abbiamo 13 gigawatt installati in Italia 35 terrawattora il GSE ci ha raccontato che abbiamo potenzialmente potenziale tecnico ed economico per due volte e mezza questa capacità bene perché quindi non si fa perché alcune cose come dire non sono core non c'è questa percezione all'interno del sistema dell'essenza dell'efficienza energetica della cogenerazione se prendiamo anche adesso gli obiettivi 2030 tutti gli studi si concentrano su quante rinnovabili sarebbero in grado di fare l'elemento che noi vogliamo aggiungere a questo è bene in questo mondo in cui intermittente delle rinnovabili qual è il ruolo della cogenerazione di una cogenerazione che è stabile e che quindi sostanzialmente può entrare anche in un bilanciamento la cogenerazione fatta bene che richiede innanzitutto serietà serietà delle persone che la fanno la cogenerazione fatta bene ti permette di avere il calore e soddisfi il calore dell'impresa e di avere un'extra produzione di kilowattora che possono essere messe a disposizione in un sistema che è decarbonizzato che va verso le fonti rinnovabili allora il ruolo di anima e di talcogen è quello di noi siamo i metalmeccanici dell'energia noi abbiamo i piedi nell'olio cerchiamo di avere però un minimo di visione quindi magari guardare lontano allora la casa delle tecnologie deve confrontarsi con un sistema che dice attenzione sei stato bravo rischi di essere il male perché utilizzerai il gas e quindi hai la necessità di spostare la tua attenzione a massimizzazione dell'efficienza ma anche a una decarbonizzazione dei combustibili oggi se prendiamo le pompe di calore le caldaie gli impianti di cogenerazione che sono presenti in anima lo diciamo adesso 25% di idrogeno miscelato 25% di idrogeno lo possiamo fare lo sviluppo di tutti i combustibili biometano non si discute è combustibile punto ammoniaca biometanolo cattura della CO2 produzione di gas di sintesi quali sono gli elementi su cui le tecnologie stanno lavorando attenzione però non ubriachiamoci come abbiamo fatto nel primo conto fotovoltaico dell'idrogeno perché non ce l'abbiamo cioè non chiediamo di avere cogenerazione 100% o teleriscaldamento 100% a idrogeno oggi perché non è possibile ma non perché le tecnologie non lo possano fare ma perché non è disponibile abbiamo fatto nel primo giorno di questi incontri abbiamo fatto un focus su una novità del settore energetico perché si sta aprendo una strada molto interessante per l'uso dei metalli reattivi tra cui l'allumino come sistemi di stoccaggio dell'energia e siamo partiti proprio dal fatto che bello l'idrogeno però probabilmente c'è una narrazione oggi si usiamo questo termine intorno all'idrogeno un tantino così anche con alcuni momenti di puro fantasy lasciatemi dire così perché poi uno quando fa i conti vettore chimico dal punto di vista chimico perfetto dal punto di vista logistico l'idrogeno è quasi un incubo stoccarlo è complicatissimo non abbiamo tecnologie per stoccarlo in grande quantità e non sappiamo se le avremo nel senso che al momento non c'è visibilità su questo su questo aspetto un po' il rischio questo volevo dire lo vedete voi il rischio che come dire ci sia anche vista una classe dirigente non sempre ferratissima dal punto di vista tecnico capace di cogliere questi aspetti lo vedete il rischio che alcune scelte finiscano per essere dominate quasi da una moda o da una retorica che in parte magari ha una natura ideologica in parte anche una natura di mero interesse economico noi siamo profondamente convinti che il nostro sistema energetico idrogeno non idrogeno su questo poi come dire ma i sistemi energetici del futuro adesso parlavo recentemente anche con Ann Pettifor che è una keynesiana di ferro e dice bisogna consumare meno punto però bisogna consumare meno lo si può declinare in tante maniere allora quello che è il futuro è un futuro a fonti rinnovabili attenzione un mix dove esistono le fonti rinnovabili esistono i sostegni tecnici lo storage il termoelettrico che continuerà a permettere ai fonti rinnovabili di essere sostenibili nella narrazione chiaro 180 però questo è comunque un punto intermedio non è che nel 2050 possiamo avere le centrali a gas fossile che fanno il sostegno alle rinnovabili se no come dire avremo altri problemi forse anche più più se poi lo facciamo tutti se lo facciamo solo in europei i problemi ce li avremo lo stesso ma insomma se ne faremo una ragione la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno però da questo punto di vista noi sappiamo mi sembra importante specificare se questa tua affermazione è relativa a come dire a un periodo peraltro trentennale che abbiamo davanti o se è secondo te il punto d'arrivo no no allora è un percorso di transizione dove noi dobbiamo decarbonizzare i combustibili fuori di dubbio ma è un mix in cui non potremo sopravvivere rinnovabili ed accumulo semplicemente anche per questioni di costo semplicemente per questioni di costo oggi la cogenerazione ma oggi sorrido perché mi ricordo un convegno fatto in Confindustria a Ravenna 15 anni fa e ripeto le stesse cose la cogenerazione è ambiente economia e sicurezza energetica adesso lo scopriamo adesso che dai russi ci si può fidare più o meno attenzione batterie il gas dall'Azerbaijan vabbè adesso io non voglio dire essere profetico su quelli che possono essere conflitti Turchia Russia ma se li iniziano a litigare il TAP rimane un TAP e fine il TAP diventa proprio un TAP dice quindi in questo senso è il mix è il mix delle soluzioni che devono essere ambientalmente compatibili nessuna discussione Davide Chiaroni allora aiutami a capire quali sono oggi come dire intanto che cosa rende visto che tu strategia e marketing ti occupi che cosa rende un mercato bisogna far funzionare il mercato dei servizi dell'efficienza energetica e farlo funzionare o farlo funzionare meglio diciamo adesso non è che siamo proprio nemmeno all'anno zero che cosa rende in quale contesto permettere di rendere questo diciamo questo obiettivo perseguibile anche in modo sistematico senza doversi ogni giorno svegliare col terrore quali sono gli elementi più critici aspetta che vediamo se funziona sì ok allora guarda riprendo una parola che è stata detta da Vittorio qua vicino a me che riguarda la gestione perché per la gestione c'è bisogno anche di persone ovviamente ma anche di strumenti di gestione strumenti di gestione strumenti di misura digitalizzazione associata a questo perché fatemi essere un po' provocatorio ma diciamo sapendo da quanto tempo diciamo poi siamo attenti al tema dell'efficienza energetica c'è una cosa che rende le rinnovabili semplici da comunicare si misurano in quantità installata e poi ogni mattina circa già se ci dice quanto hanno prodotto e noi sappiamo esattamente quanta parte del nostro mix energetico dipende da ecco l'efficienza energetica ovviamente è molto più complicata da misurare in quantità anche se tecnicamente lo si potrebbe fare manca però la possibilità di dire oggi abbiamo risparmiato grazie agli interventi fatti x y z e perché perché molti di questi interventi sono interventi che poi non hanno il seguito della gestione del monitoraggio del dato noi abbiamo raccontato raccolto i dati di mercato e ve li do così come sono a chiaroscuri oggi investe sul mondo del digitale associato all'efficienza energetica una su quattro delle imprese che fanno investimenti in impianti e tecnologie per l'efficienza energetica quindi chi investe nel ferro solo uno su quattro ci mette sopra anche la componente di intelligenza digitale di misura di monitoraggio di gestione e meno di un terzo delle imprese che ha comunque un sistema di monitoraggio di energia in realtà usa quel sistema di monitoraggio di energia per prendere delle decisioni non ci fa solo i report tu dici perché è bello faccio il report colorato questo la dashboard che sia chiaro dobbiamo partire da lì perché se non abbiamo neanche quello e ci sono un terzo delle imprese non ha nemmeno quello e bisogna almeno arrivare lì però poi cosa ce ne facciamo di questo dato quanto questo dato diventa integrato nella nostra capacità di produrre per esempio quanto nella pianificazione della produzione del nostro IRP l'ottimizzazione energetica è una delle variabili oggi sono pochissime le imprese anche tra le energivore che considerano questo fattore come un fattore di pianificazione e allora diciamo è chiaro che questo è un tema complicato da gestire che si risolve mettendo a sistema questa informazione ma cominciando anche nella narrativa a me il termine e chiudo con la provocazione efficienza energetica non piace parliamo di ottimizzazione energetica è una parola terribilmente da ingegneri assolutamente però il concetto però il concetto di efficienza così sexy per tutti gli altri assolutamente sì ma lasciami spiegare il perché qual è la ragione che c'è dietro questo cambio di parola perché l'efficienza nasce dall'idea che c'è uno spreco invece il tema è ma io l'energia cito un settore con il quale ho avuto occasione di collaborare recentemente che è il settore dell'etelco che ovviamente è un settore largamente energico ora il settore dell'etelco ha questo problema dice ma se voi mi dite che io devo risparmiare energia eh non posso perché c'è il 5G e me lo sta chiedendo il mercato quindi il mio fabbisogno energetico crescerà non diminuirà per effetto del fatto che c'è una domanda che mi trascina e che vogliamo fare in modo che il nostro telefonino il nostro sistema di connessione sia in un certo modo il punto non è quindi se risparmio faccio efficienza lì quanto se sono in grado di ottimizzare l'energia che utilizzo cioè quanto se sono capace di mettere trasformare quell'energia attraverso un sistema misto forse sia stato tu a raccontarmi questa cosa qualche tempo fa o comunque un tuo collega del Politecnico all'inizio quando diciamo si cominciò a diffondere il sistema di telefonia mobile come dire i ripetitori vennero messi giù un po' così di fretta e dopo un po' si resero conto che avevano una rete di ripetitori in cui uno su tre consumava a fronte di traffico zero che è una cosa è come la fabbrica che ha il contatore che va a manetta della domenica no? come dire esattamente e lì però devi lavorare non è facendo il ripetitore che consuma meno ma è ottimizzando il tuo sistema produttivo se vuoi l'analogia ecco questo secondo me è un po' il passaggio verso il quale andare e servono e chiudo ma riprendo un tema che mi è però per ovvie ragioni molto caro come diceva Dario prima il tema delle competenze perché qui vuol dire che la consulenza energetica non è soltanto una consulenza bolletta analisi potresti risparmiare X ma è una consulenza che entra nei processi ti aiuta a capire come ottimizzare sono dei motivi per cui poi è difficile effettivamente è vero che magari non viene percepita come core business ma poi ti impatta sul core business quando ci metti le mani e se mi permette un'ultima battuta rapidissima invece sul tema del super bonus anche qua giusto con l'obiettivo di fare il bastian contrario e provare a buttare una provocazione attenzione però a dimenticarci dell'effetto segnalazione quando abbiamo analizzato i certificati bianchi all'inizio nella loro uscita quando erano ancora decisamente poco usati ma avevano un effetto volano importante perché erano un mezzo attraverso il quale le esco andavano dall'impresa per dire oh ma guarda che è importante parlare di energia perché c'è un sistema che il governo ha messo a punto che lavora per incentivare questo tipo di ah come funziona eccetera eccetera c'è questo effetto di awareness dello strumento normativo non ce lo dimentichiamo allora giustissimo il super bonus non risolve o per risolverlo dovrebbe mettere risorse che sono n volte quelle di oggi però potrebbe accendere un'attenzione da questo punto di vista che oggi non c'è brevemente così sì ma poi abbiamo un altro giro non è che poi abbiamo il tempo di fare un po' di di commento assolutamente io volevo andare da Fabrizio Dughiero allora in questa partita dell'efficienza energetica ma in generale direi nella partita della transizione della transizione ecologica dal punto di vista delle nostre anche capacità di come dire di programmare di costruire un percorso sostenibile per esempio dal punto di vista dell'approvvigionamento di quello che serve per farlo come siamo messi allora Fabrizio Dughiero come lo conosco da un po' è uno che da tempo cerca per esempio di così si batte diciamo per riportare una parte di produzione fotovoltaico in Italia facendo il suo da professore no? e quindi facendo notare che si può fare per esempio si può tenere in piedi una filiera così no? assolutamente sì intanto grazie dell'invito mi fa piacere vedere in sala qualche mio studente che adesso è diventato un ottimo professionista quindi insegnavo ingegnere dell'energia ne vedo parecchi in sala e ritornando anche al discorso che ho sentito fare da qualcuno di loro prima di passare a questo tema volevo mettere l'appunto sul fatto che la maggior parte delle aziende che abbiamo in Italia sono piccole e medie imprese e citando Roy Batti di Blade Runner siccome io le giro le imprese ho visto cose che voi umani non potreste nemmeno immaginarvi cioè nel senso che c'è molto ma molto da fare anche a livello di base cioè io ho visto dei processi che gridano veramente allo scandalo dal punto di vista energetico quindi voglio dire basterebbe anche poco dal punto di vista culturale per far capire che l'efficienza energetica non è un'opzione è fondamentale anche per rendere più efficienti e più profittevoli i processi che le aziende producono una domanda te la voglio fare subito perché mi sembra importante secondo te questo problema gli energivori diciamo non li tocca minimamente o anche in quel campo lì forse non è sempre vero che c'è il massimo dell'attenzione a mio parere anche in quel campo lì io oltretutto insegno da anni una disciplina che si chiama electromagnetic processing of materials cioè vuol dire tutto quello che riguarda l'utilizzo dell'energia elettrica per trasformarla in calore per processi industriali e quindi voglio dire da questo punto di vista ne vedo sia nei processi energiveri che meno e devo dire che insomma c'è molto da fare dal punto di vista culturale sono d'accordo con il mio collega del Politecnico che prima di tutto beh insomma il Poli il Poli il Poli il Poli ma anche l'Università di Padova quest'anno feste quest'anno celebriamo gli 800 anni abbiamo avuto Galileo Galilei che comunque insomma non era proprio poco ecco dicevo quindi dal punto di vista culturale c'è da fare molto faccio un altro esempio poi ritorno quanto per quanto tempo ad esempio nell'ambito invece domestico abbiamo combattuto i piani di cottura di induzione erano combattuti ma non lo posso i miei studenti vedo che battono lì perché glielo dicevo sempre a lezioni di cui lui batte sui piani di cottura no ma è così perché alla fine se uno va a fare il conto l'utilizzo del piano di cottura di induzione fa risparmiare energia primaria è chiaro ecco da questo punto di vista è fondamentale eppure fino a poco tempo fa guai adesso è ovvio è pacifico per tutti però da questo punto di vista è pacifico per tutti perché si pulisce facile mica perché fa risparmiare energia primaria però voglio dire insomma ecco sono due esempi per dire che manca tanto che secondo me se ne consumasse il doppio ne compreremmo lo stesso perché c'è una passatina di spugna allora detto questo torniamo invece all'aspetto del fotovoltaico io non vorrei che il fotovoltaico diventasse o meglio il silicio per il fotovoltaico diventasse il gas russo attuale perché questo forse nessuno si rende conto ma il 90% della produzione di silicio è nel fariste e non perché il silicio non c'è no perché il silicio poi non è il silicio il silicio che si trova non è che uno va in spiaggia col badile no è quello il silicio no lo devo processare lo processo prima diventa un silicio metallurgico e poi lo devo processare per farlo diventare silicio fotovoltaico noi avevamo le filiere qui in Norvegia in Germania eccetera sono sparite adesso anche Tristan Enel a Catania sta sviluppando una gigafattori da 3 gigawatt ovviamente vedremo quando perché adesso è a 200 megawatt vediamo quando arriverà ai 3 gigawatt però sono 3 gigawatt di celle ovvero compriano i wafer sempre nel fariste e fanno le celle cioè hanno il processo la filiera per così dire bassa prima non facevamo manco quello prima non facevamo eravamo serramentisti lasciamelo dire Maurizio perché fare i pannelli vuol dire essere serramentisti insomma non è che avevamo grande tecnologia cioè quello di prendere le celle e fare i pannelli vuol dire fare i serramentisti ma adesso abbiamo le celle d'accordo ma ci manca il silicio questo paese e io vero il discorso ero ad un intervento con il ministro Orlando delle politiche del lavoro e il ministro Orlando lo diceva lui questo paese manca di politiche industriali e l'Europa manca di politiche industriali il reshoring va fatto pensando all'intera filiera e questo lo dobbiamo fare anche se pensiamo all'idrogeno cominciamo già a ragionare a andare a comprare gli elettrolizzatori in Cina ma l'elettrolizzatore la base fondamentale è per produrre l'idrogeno ce lo dobbiamo produrre qui come dobbiamo produrre i materiali delle membrane se non torniamo a ragionare in questo senso io ho l'impressione che non andremo molto avanti e allora e qui ritorno al discorso fondamentale oggi ragioniamo per oggi ma io ho l'impressione che questo paese abbia necessità di cominciare a pensare a quello che vogliamo essere tra vent'anni altrimenti non ne veniamo fuori e quello della filiera del fotovoltaico è uno di questi esempi come pure quello della filiera completa delle batterie è un altro esempio la filiera completa dell'idrogeno è un altro esempio ma io non sento parlare di queste cose sento parlare di applicazioni dell'idrogeno applicazioni alla mobilità applicazioni applicazioni all'hard to abate ma applicazioni invece che riguardino o meglio progetti che riguardano invece la produzione della filiera di questo non ne sento parlare anche a livello europeo hai questa impressione? a livello europeo un po' meno però diciamo che tutte queste cose vanno fatte a livello europeo è chiaro perché bisogna anche mettersi d'accordo noi qui si intende l'Europa il processo stesso esatto il processo stesso di produzione del silicio ricordiamocelo è un processo abbastanza energivore quindi va associato a delle politiche energetiche particolari però ripeto guardate che fra dieci anni quando il mercato interno della Cina esploderà più di quanto sta esplodendo ora perché sta già esplodendo ora forse sono più sensibili di noi l'efficienza energetica e anche le fonti rinnovabili ecco se esploderà ci ritroveremo nelle stesse condizioni del gas rosso attuale quindi questo è il ragionamento che va fatto finirà solo la domanda interna quella produzione lì ed è per questo che una filiera produttiva nazionale che è quella della cogenerazione e dell'efficienza energetica rispetto al fotovoltaico è necessario che venga protetta e incentivata cioè la cogenerazione ce lo diciamo perché siamo fabbrica noi siamo la ex ad esempio tolgo il cappello metto il cappello siamo la ex grandi motori di Trieste allora facciamo i grandi motori facciamo gli impianti ma non siamo soli cioè c'è una filiera di competenze ingegneristiche di componentistica di meccanica che va protetta e ci permette di avere quello nel momento in cui ci chiuderanno i rubinetti dei pannelli dalla Cina avremo ancora la cogenerazione con i combustibili sostenibili poi è vero che vanno sviluppate delle filiere che vanno ad integrare adesso dobbiamo capire qual è il confine dell'autarchia Europa l'Italia certo 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 la ragionevole però diciamo abbiamo dimostrato di essere totalmente irrazionali nella dipendenza nel modo in cui ci siamo legati non solo alla Russia perché c'è un altro gasdotto che arriva dall'Africa se lo chiudo siamo messi uguali cioè voglio dire non è una situazione il problema è che le scelte da questo punto di vista non dovrebbero essere politiche dovrebbero essere tecniche cioè il pragmatismo torno indietro di qualche anno ma quando la campagna elettorale Berlusconi-Veltroni era facciamo le centrali nucleari o riempiamo tutti i tetti di fotovoltaico e l'energia diventa un gioco per acchiappare voti Giorgio Gaber è rinnovabile a un più attivo è Giorgio Gaber la canzone lo scende no però diventa da questo punto di vista perché la politica spinge su alcune soluzioni perché è più facile raccontarla eh certo certo lo dicevamo stamattina per esempio il fotovoltaico si vede no lo vedi sul tetto dici guarda quello come green se uno ha fatto la digitalizzazione in casa e ha fatto la pompa di calore si vede un pochettino si vede un pochettino di meno io sono in debito di una così con Pastorino di una reazione prego mi sa che è spento le provocazioni le provocazioni sono fatte apposta per qualcuno risponde le hanno fatte due di provocazioni a dire il vero si si rispondi entrambi se non si risponde è inutile farle intanto mi aiuta anche a collegarmi ad un altro argomento il super bonus come elemento di sensibilizzazione verissimo con due difetti fondamentali uno che se uno una cosa me la regala non ho nessun interesse a misurare che vantaggio mi porta perché è un regalo lo metto lì se mi serve bene se non mi serve rimane in soffitta quindi il fatto di dare il 110 è già assolutamente contrario alla sensibilizzazione sapere come è possibile che sono tutti contrari eppure abbiamo fatto perché è uno strumento che non ci intende con l'efficienza energetica ha altri obiettivi che ha brillantemente raggiunto il il secondo aspetto è che dopo bisogna misurare perché se se non misuro non quindi e qua mi ricollego al fatto che quando dice gestione misura per quanto riguarda l'industria ce l'abbiamo già lo strumento adatto che fa la gestione impara insegna a fare la gestione scusate mi obbliga a misurare e mi dà la possibilità tutte le mattine di dire al GSE quanta energia ho risparmiato o come ho ottimizzato i miei processi ce l'abbiamo e stiamo facendo di tutto per ucciderlo anche questo in maniera del tutto misteriosa e comprensibile misteriosa e incomprensibile perché tutte le volte che sento parlare di cosa serve per fare efficienza energetica in particolare nel mondo dell'industria la risposta è lì non è una risposta facile non voglio è uno strumento molto delicato da maneggiare con cura da monitorare da curare come un bambino però ce l'abbiamo e facciamo di tutto per non usarlo devo dire non lo so posso continuare nel senso che tornando al fotovoltaico poi mi rilascio anche quello che diceva Pastorino abbiamo una possibilità abbiamo circa 20 gigabatt installati tra poco questi 20 gigabatt cominciano a essere anziani in Germania la ricerca sul riciclo dei moduli fotovoltaici è attiva da 12 anni io mi ricordo visitavo un centro di ricerca del Fraudhofer a Dalle che si occupava esclusivamente di silicio cristallino e loro da 10 anni 12 anni lavoravano su questo tema il riciclo è locale non può essere altro che locale noi non pensiamo di mandare i moduli fotovoltaici in qualche altro paese ma è locale per poi ricomprarceli tra l'altro abbiamo una risorsa qui quindi anche su questo bisogna fare un ragionamento cominciare a pensare e di rimettere in piedi una filiera che può essere anche di economia circolare Dario ma non è che Dario Di Santo non è che c'è qualche problemino abbiamo sentito i problemi delle carenze il rischio di trovarci a secco magari di materie prime essenziali molti dei discorsi che abbiamo fatto in questi giorni non è che c'è qualche problema di allineamento diciamo fra la realtà e le ambizioni o i programmi e se c'è dove sta? Beh diciamo probabilmente c'è nel senso che oggi purtroppo c'è la tendenza a sviluppare degli scenari bellissimi tanto io mi metto ad esempio su Excel se vuoi faccio un net zero by 2025 nel senso dopo domani dico che basta fare 300 giga risponenziali arrivo dove voglio insomma il problema è che purtroppo c'è un hardware sotto e anche un software di persone che non è che segue quelle curve e lo dico anche ai giovani che sono in sala attenzione perché ormai è un'abitudine sempre più diffusa allora ci sono proposte che dicono facciamo 20 gigawatt di fotovoltaico all'anno in tre anni 60 gigawatt l'obiettivo è arrivare su Alfa Centauri in tre anni però la velocità della luce è limitata ce ne vogliono almeno 4 e mezzo insomma questo stai dicendo l'impattito nazionale l'impattito nazionale su questo tema 20-25 oppure eh ma quanto è l'impatto sulla superficie perché poi questo crea quello che ti dice distruggiamo tutto il paesaggio italiano quello che ti dice ma no un fazzolettino così neanche si vede sulla mappa va benissimo ma nessuno che si pone il problema va bene ma noi questi 20 giga ma dove li prendiamo allora vai a prendere i dati di mercato 20 gigawatt oggi è il mercato europeo del fotovoltaico qual è l'azione realistica per cui l'Italia dall'anno prossimo si prende tutto il mercato europeo gli altri paesi europei che fanno rinuncio al fotovoltaico oppure abbiamo le imprese nel mondo che hanno aumentato così di 50-100 gigawatt la produzione è quello che è successo sul 110 si è saturata la capacità industriale e da lì è solo stata salita di prezzi è un problema serissimo serissimo perché anche sul 110 scusami perché poi l'abbiamo citato parliamoci quando io sviluppo una politica così non è che la prima cosa che faccio è partire la prima cosa che faccio è ok voglio una politica che vale decine di miliardi di euro in 2-3 anni siamo a 30 miliardi che è uno sproposito la prima cosa che faccio io mi servono persone a Ilaria Bertini sono arrivate persone per gestire il super bonus ti hanno dato decine di persone no però lei deve rispondere a 35 mila richieste tecniche in un anno poi non è mica solo quello altre n attività solo su quel tema da fare ma la prima cosa che ti serve hai 30 miliardi da spendere vuoi mettere qualche decina di milioni sulle persone e su quegli strumenti perché se no non hai controlli nei comuni per la realizzazione del PNRR o ci mettiamo gente brava quindi anche pagata quello che normalmente richiede la gente brava oppure siamo morti seconda cosa ma io vado a vedere i dati dei rapporti che sono interessanti ci dicono tante cose vanno negli ultimi anni ecco bonus prendo la misura quella riferita alle riqualificazioni col cappotto e vedo che numeri ci sono all'anno 30-35 mila ma posso io mettere sul mercato una misura che crea una domanda da milioni ma come faccio ma che senso ha ma posso farne uno che fa 70 mila no a un milione o a 300 mila perché se lo faccio succedono due cose uno prezzi infiniti due non si trovano i soggetti tre fra qualche anno al contenzioso i nostri studi regali che saranno ben lieti si aggiungerà al contenzioso il super bonus perché cominciano a cascare pezzi di cappotto a vedere che le cose non funzionano come dovrebbero se voi andate a prendere i dati degli altri rapporti quelli del GSE sul fotovoltaico e andate a vedere le performance degli impianti realizzati nel periodo salva al coa il famigerato salva al coa confrontate con gli altri anni vedete che c'è un buco di prestazioni perché sono stati fatti in fretta e quella è una tecnologia perdonatemi demenziale non c'è neanche da far paragone dovrebbe essere facile dici attacco il cavo quindi figuriamoci quello che accade sul sistema edificio che se lo metto a nord qualche problema allora il problema è ma come mai facciamo queste cose nonostante abbiamo una serie di esperienze è chiaro che dobbiamo dare delle risposte fare delle politiche che siano razionali ragionevoli perché se no il risultato è le politiche vanno a stop and go si continuano a modificare dopo un po' le imprese vanno in crisi perché fra un po' andranno in crisi già stanno andando in crisi quando ormai non si rinuncia in partenza perché non ci si fida più che forse addirittura allora un po' di sensibilità voglio fare il super boss voglio 110 va bene rivolgiti agli incapienti alle case popolari oppure vuoi rivolgerti a di più allora non metto il 110 fai pagare qualcosa e metti requisiti più stringenti in modo che la domanda è limitata la fai crescere un po' è coerente anche con le capacità l'industria cresce e si sviluppa la filiera poi è chiaro noi se vogliamo fare questa transizione abbiamo bisogno delle materie prime lo dicevamo anche ieri a cena ce l'abbiamo anche in Italia e tiriamole fuori e si cambia anche il paesaggio e si cambierà pure il paesaggio facciamo qualcosa non facciamo niente ma voglio dire c'è la Francia che ha fatto un'operazione molto interessante che secondo me avremmo dovuto copiare e aveva inserito nei suoi appalti pubblici l'obbligo di formazione per il personale delle aziende avevano un formatore di cantiere quindi non erano gli operai che andavano a scuola ma era la scuola che andava dagli operai stavano lì degli osservatori che alla fine della giornata riadunavano tutte le maestranze e dicevano ok questa cosa è giusta l'avete fatta bene per questo e per questo motivo questa cosa invece è sbagliata per questo e questo motivo in questo modo con una piccola spesa aggiuntiva che tra l'altro migliorava subito il risultato già sul campo ha permesso di formare moltissima moltissima gente spesso mancano queste piccole accortezze cosa volevi dire? volevo dire una cosa sempre facendo invece il difensore del super bonus non credo però Dario che la soluzione sia nel capparlo la soluzione nel renderlo stabile cioè la corsa della domanda è che se io ti dico come nel salvo alcoa è sostenibile così stabile è impossibile però attenzione se noi facciamo un sistema che dice soltanto le prime 100 domande i famosi click day non credo che siano la soluzione la soluzione è stabilizziamo nel lungo termine un sistema di incentivazione dell'efficienza come la detrazione fiscale magari non al 110 ovviamente che ha valori ragionevoli commisurati magari all'efficacia in termini energetici se io allungo il tempo necessario e non ti costringo a dire ho fatture entro la fine dell'anno oppure non rientri più nell'incentivazione quindi corsa salita dei prezzi eccetera ma lo rendo stabile permanente la soluzione della domanda la creo in questa maniera e la filiera si sviluppa perché ovviamente la domanda si distribuisce a questo punto in maniera più omogenea quindi io credo che a noi serva se non preventivo fuori di cozza rimanda oggi non può oggi se lo devi pigliare esatto questo punto secondo me vale un po' per tutto il nostro sistema cioè la creazione di stabilità o di aggiustamento nel tempo è forse la vera condizione perché se ragioniamo sempre per iniziative spot per un mercato di accelerazione poi ci muoviamo in questa il rischio è quello di creare picchi di domanda faccio vedere che sono le 13 e 5 quindi io volevo finire il giro e mi sa che dovrò un po' così frustrare alcune vorrei una battuta da parte di Vittorio Cossarini e poi volevo chiedere una cosa anche prego prego Cossarini allora seguo il discorso di Chiaroni che mi è ben comprensibile vorrei aggiungere un pezzo allora il patrimonio immobiliare italiano cambia con un ritmo che a seconda delle stime qui siamo nel campo delle stime dallo 0,8 al 2% all'anno ho il grosso sospetto che sia più vicino allo 0,8 se allora togliamo di mezzo un attimo io divido il patrimonio immobiliare in tre categorie quello nuovo dopo il 2006 quello antico e quello vecchio allora diciamo quello nuovo non ha bisogno quello antico ha bisogno di altro stiamo su quello vecchio che è maggior parte ha milioni milioni 20 milioni totali saranno 50 60 70 per cento quello che l'è allora stiamo parlando di una roba che noi dobbiamo fare in 30 anni è lì che casca l'asino dobbiamo darsi gli obiettivi 30 sono pochi gli Stati Uniti li fanno in 20 anni tirano giù e rifanno sono fatti di cartone in un'altra in un'altra allora quello che possiamo pensare a cui stiamo pensando è questo va bene caliamo perché è chiaro che per favore ha alta c'è un pezzo da finanziare bene questo pezzo è ragionevole che sia coinvolto in una coincidenza di interessi anche il proprietario l'inquilino anche perché dovendo farlo in 30 anni dovendo gestire anche non solo la domanda ma anche l'offerta è ragionevole se no ci troviamo i lavori fatti male e la muffa negli angoli perché l'offerta diventa un'offerta che diventa anche incompetente per forza se non gli dà il tempo di crearsi bene allora fill the gap scusatemi l'anglesismo chi riempie quello spazio bene allora come si può riempire la finanza c'è la finanza privata c'è bisogna convogliarla come la convogli e se vai sulla gestione allora a questo punto noi possiamo pensare e si sta studiando l'Enea è sul progetto europeo le cose l'utilizzo della logica degli SBC non pensiamo al nome Energy Performance Contra pensiamo al sottostante cioè misuro quadro e tutto quello che si è relatato e allora possiamo muovere anche la finanza privata in questo tipo di direzione poi se mi dai due minuti cambierei un attimo prenderei alcuni ragionamenti che sono stati fatti dal punto di vista dell'azienda mi metto in un altro ruolo quello dell'imprenditore dall'altra parte allora intanto cambiano ruolo a me ogni tanto piace citare il Kotler le cose non si vendono per la loro funzione no si vendono chi produce auto le vende per far spostare la gente ma chi la compra non la compra per spostarsi lo sa che si deve spostare la compra per i segnali che gli dà quell'automobile rispetto alle altre quindi benissimo che si venda il piano induzione perché si pulisce meglio e non ti bruci perché se il piano induzione fosse fatto come l'altro per togliere il robo per pulirlo non ne vieni neanche uno aspetti che l'altro invecchi e poi cambi questo è la situazione ideale che una cosa sia prima di tutto comoda funzionale funzioni bene vediamo l'impresa l'impresa capovolgo l'approccio rispetto a quello dell'immobile l'immobile tu guardi spesso troppo all'asset e poco alla funzione l'imprenditore sa benissimo che con gli investimenti di efficienza energetica riduce i costi è un costo lo vede lo vede magari non è ben misurato perché non va nel sistema magari non capisce quanto bene ma vediamo che altri lo sa che cosa spaventa l'imprenditore dove mettere della finanza lì per fare gli investimenti perché la toglie o la toglie dalla famiglia la taglia l'altra ma questo è il problema per cui occorre il nostro lavoro che sappiamo convogliarla nostra o di altri la convogliamo e occorre bene ma c'è un altro valore che ha l'imprenditore pensiamo alle nostre ne parlavamo stamattina qui alle imprese italiane c'è anche l'asset il valore dell'impresa quando è che le imprese si accorgono del valore quando o la cedono hanno il passaggio o falliscono o cose del genere allora oggi ma anche quando devi liquidare il cugino oggi le imprese dai 12 milioni di euro 13-14 milioni di euro che per noi sono medie ma nel mondo sono piccole possono essere già di interesse per il fondo se non allora cosa va a vedere il fondo l'ebida no perché il fondo non va a vedere l'ebida va a vedere l'ebida quanto è sostenibile nel tempo allora un'impresa che non ha investito in efficienza energetica ma in generale nei parametri SG non è più sostenibile nel tempo e quello lo sappiamo dal 2020 dalla lettera di Larry Fink ICO che ha detto attenzione BlackRock maggiore fondo del mondo che dice no da d'ora in poi questo è il filtro la sostenibilità per valutare le imprese e va sul moltiplicatore dell'impresa questo l'imprenditore bisogna dirlo perché BlackRock mi hai lanciato BlackRock investe anche in porcherie ma la cosa interessante è che proprio chi investe anche in porcherie sa che deve investire lì e più che chi nasce con questo su questo volevo dare la fabrizia di Oghiero per provare a riflettere insieme anche su un altro aspetto e questo vale pensiamo anche al mondo degli energivori da questo punto di vista quanta capacità c'è da parte di alcuni soggetti della filiera di trascinarsi dietro il resto della filiera cioè uno dei temi che abbiamo oggi che per esempio fornitori di una grande impresa di mobili svedese se non rispettano certi requisiti non fanno i fornitori allora non c'è anche questo elemento da tenere in considerazione rispetto a parametri come può ce l'ha lanciata questa come dire ci ha portato in quella direzione anche 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 Cossarini quanto è rilevante tu che giri tante imprese hai l'impressione che ci sia da parte delle imprese italiane una come di un focus su questo per esempio guardano i loro fornitori se gli mandano se le forniture sono non sono sostenibili guardano i propri clienti ragionando su questo aspetto cioè domani questo non mi fa più un ordine perché decide una certa policy o si vive la giornata su questo beh per esperienza personale insomma da quello che vedo ci deve essere una dimensione più un po' delle imprese quindi sicuramente se le imprese sono di una certa dimensione riescono a come dire a obbligare anche i propri fornitori ad avere una politica di questo tipo soprattutto quello che io vedo importante in questa come dire effetto a cascata è la digitalizzazione non ne abbiamo parlato meglio ho sentito accennare la digitalizzazione però è fondamentale cioè io sono presidente di uno dei competence center sulla trasformazione digitale e devo dire che anche da questo punto di vista mancano investimenti ma manca formazione la formazione si deve fare attraverso il toccare con mano questo è fondamentale i nostri imprenditori non sono abbezzi a teorie a workshop eccetera non ne vedo molti qui sinceramente perché probabilmente stanno lavorando loro devono lavorare invece sulla dimostrazione e guardate che è fondamentale far capire far toccare con mano come quella tecnologia quella possibilità di gestire anche i processi energetici l'efficienza energetica sul digitale ti porta un vantaggio concreto quella sostituzione di quel dispositivo di quel particolare processo ti porta un vantaggio sia dal punto di vista della sostenibilità sia dal punto di vista dei costi sostenibilità e digitale io spesso uso parlare di due colori il verde e il blu sono i due colori del futuro ma in tutti i settori ecco spesso io queste due cose la sostenibilità e la digitalizzazione le vedo quasi separate invece non è così vanno di pari pari cioè sono entrambe molto legate una all'altra e su questo dobbiamo puntare nei prossimi anni e l'efficienza energetica è proprio fatta di questi due colori non sono io ovviamente a dirlo c'è uno molto più bravo di me che è Luciano Floridi che ha cognato questi due termini però io li uso e mi piacciono molto perché fanno capire molto dove dobbiamo andare senza il blu non si fa nemmeno il verde perché tutto quello che abbiamo discusso adesso che è il monitoraggio la verifica la gestione si fa con la digitalizzazione e qui siamo ancora molto indietro in Italia tra l'altro di più con la digitalizzazione fai a share in economy è difficile condividere le automobili senza avere dei meccanismi che lo rendano agile è difficile fare un'economia circolare veramente raffinata se non c'è una capacità di tracciare tutto in modo appunto altrettanto raffinato decisamente decisamente sì sì una battuta e poi vado da una cosa velocissima per confermare sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto sono convinto ed è vero che le grandi imprese hanno un ruolo di esempio di stimolo di terreno per gli altri possono farlo molti cominciano a farlo tra questi molti una buona parte oggi lo fa ancora più per un problema di reportistica immagine che non di reale convinzione torniamo a quello che dicevamo all'inizio nel momento in cui facciamo diventare il tema dell'efficienza e dell'efficienza in senso lato un elemento strategico anche questo diventerà qualcosa di reale rispetto invece a profitto del tema della digitalizzazione su cui sono d'accordissimo per raggiungere un tassello della visione dell'efficienza soprattutto per i grandi consumatori energivori tutto il tema della flessibilità e della risposta della domanda che è strettamente legata alla digitalizzazione è un tema che è di profonda efficienza perché è efficienza di sistema se riesco a rispondere e a partecipare al mercato riduco di moltissimo le enormi risorse che saranno necessarie per integrare il processo sulla rete le stime per capirsi vanno sono di quest'ordine un euro di fonte fotovoltaica eolica rinnovabile per un euro speso lì da un euro a un euro e mezzo bisognerà andare a spenderlo nel sistema per far sì che questa energia possa essere distribuita accumulata stoccata rispesa a secondo delle eolica ci sono delle risorse di flessibilità estribili molto molto importanti nel sistema io volevo solo seguo il discorso super bonus del quale abbiamo parlato tanto credo sono molto scettico sul fatto che il super bonus possa essere sia un'incentivazione perché di fatto non ce n'è grosso bisogno oggi le nuove generazioni andiamo a larghi passi verso un mondo decarbonizzato forse però non hanno le risorse finanziarie le nuove generazioni probabilmente no non è che passa la buona volontà passano le generazioni ovviamente è una questione anche di orizzonte se ci mettiamo con un orizzonte a 30 anni l'orizzonte 2030 è una cosa se ci mettiamo un orizzonte più lungo sicuramente il tema della decarbonizzazione sarà il tema centrale ma questo anche perché la risorsa idrocarburo è una risorsa finita quindi lo dice lo dirà necessariamente ma è abbastanza lasciatemi fare la battuta ma è abbastanza ma lo è no perché noi comunque in due secoli e mezzo ci siamo bevuti la metà di quello che la terra ha prodotto in idrocarburi in 10 milioni di anni allora benissimo e quindi carbonifero tutta un'era geologica comunque è una cosa a finire quindi da questo punto di vista torno piedi per terra sul super bonus credo che si dimostra con pochi con pochi calcoli che la potenzialità di efficientamento del patrimonio pubblico è molto bassa quindi non bastano 20 anni per bonificare un terzo del patrimonio vecchio che segue il discorso quindi non ha una grossa e faccio una domanda con 30 miliardi spesi per efficientare eccetera quanti gigawatt fotovoltaici si sarebbero potuti mi pare ripeto che sul fatto che sia critico e non concepito bene il meccanismo nel 110 così come oggi diciamo che non ho ancora incontrato uno che mi dica no va bene così fammi chiudere il nostro paese 15 anni fa ha incentivato il fotovoltaico e non apro questo ha incentivato quando il prezzo era molto più alto quando le tecnologie erano molto più vecchie eccetera eccetera sì sì ma infatti il problema dice che oltre a errare umano stultumest perseverare invece è purtroppo quello che stiamo facendo speriamo che incontri di questo genere oltre a far passare la voglia a chiunque di lavorare nel campo di efficienza energetica diciamo così servano però come dire a farci almeno intuire intravedere un po' meglio la strada la strada da seguire breve Dario ti prego una provocazione che ho io cosa avete fatto a casa vostra e nelle vostre imprese negli ultimi anni grazie a tutti e buon appetito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti